Tanto per cambiare, domani c'è sciopero, venite a riprenderveli a mezzogiorno. Cari mammi, vi informo che causa sciopero delle rappresentanti sindacali a cui appartengono le nostre cari insegnanti, domani i bambini usciranno alle ore 12. Buona serata! Ma no! Domani dovevo fare le pulizie! Ok, grazie! Altri 50 euro di babysitter. Ok, grazie. Beati dipendenti pubblici! Ok, grazie. Oh, ma sono sempre in sciopero! Ok, grazie. Ha finito l'anno scolastico, bisogna fare i regali alle maestre. Datemi qualche idea perché io non ce l'ho. Cari mamme, con la fine dell'anno scolastico abbiamo pensato di fare un piccolo presente alle nostre cari insegnanti. Se qualcuna ha idee o suggerimenti, la prego di contattarmi. Speriamo che non ce l'hai da tu. Fai pure, mi fido ciecamente di te. Aridaglie, costi regali. Ok, grazie, fate voi, mi fido. Io lavoro e non ho tempo per queste cose. Fate voi, mi fido ciecamente. E io un'idea l'avrei, ma tanto le mie le bocciate sempre. Fate voi, mi fido. Dovete cacciare i soldi. Cari mamme, siete pregate di consegnare 5 euro a bambino. Sì, la banca d'Italia. Ok, grazie. Ma che due scatole! Ok, grazie dell'informazione. E la novità dov'è? Ok, grazie. Aridaglie! Ok, grazie. Io non avrei mai voluto dirvi una cosa del genere, però non ce ne libereremo mai. A scuola ci sono i pidocchi. Cari mamme, vi informo che a scuola si è verificato un caso di pediculosi. Vi prego di fare molta attenzione alla pulizia dei capelli dei vostri bambini. Grazie. Io sto per vomitare. Ok, grazie. Non se ne può più di questi pidocchi. Non se ne può più. Sarebbe ora che facessero una bella disinfestazione. Ok, grazie. No, che schifo! Ok, grazie. Grazie. Grazie.